Nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, cronache e commenti, la trasmissione dedicata al dibattito nel Parlamento regionale. L'ultima seduta di fine luglio ha visto molti argomenti che abbiamo già trattato nelle scorse puntate. In questa ci vogliamo concentrare su due argomenti. Uno riguardante la legge che è stata modificata sull'accatastamento dei caminetti, la Regione si era già espressa, questa modifica va a semplificare l'accatastamento e ad eliminare in alcuni casi, vedremo quali, le eventuali sanzioni. E poi i consiglieri regionali, i vari gruppi del Consiglio regionale, dunque gruppi politici, hanno esposto le loro priorità alla ripresa del Consiglio regionale che sarà nella prima metà di settembre, ovviamente dopo la pausa estiva di agosto. Dunque non andiamo con il sommario, ci sono due argomenti, andiamo subito con il primo e partiamo proprio dal dibattito sull'accatastamento dei caminetti. La Regione modifica la legge 39 del 2005 in materia di energia per disciplinare l'accatastamento dei caminetti. La misura è stata approvata con 21 voti favorevoli del PD e di Italia Viva e 7 contrari di Lega, Forza Italia, 5 Stelle e Gruppo Misto, astenuto Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia. Il provvedimento dispone che l'accatastamento degli impianti non sia più obbligatorio e che di conseguenza non sono previste sanzioni amministrative sotto i 10 kilowatt di potenza. Ma è questa la condizione necessaria per poter accedere ai contributi regionali per la sostituzione degli impianti non ambientalmente performanti. La legge indica anche i casi in cui ci sia l'esclusione dall'accatastamento, come per gli impianti chiusi, dismessi o non in funzione, da considerarsi quindi al pari di complementi di arredo per gli impianti presenti in abitazioni dove non siano presenti ulteriori sistemi di riscaldamento, ma anche per gli impianti collocati in abitazioni fornite di un sistema di riscaldamento condominiale. Se l'accatastamento è gratuito e non comporterà sanzioni su impianti sotto i 10 kilowatt, non cambia niente invece per gli impianti sopra i 10 kilowatt che dovranno infatti adeguarsi alle prescrizioni in materia di efficienza energetica effettuate a seguito dell'attività di controllo prevista dalla legge. Il mancato adeguamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 192 del 2005, attuato dalla direttiva comunitaria sul rendimento energetico nell'edilizia, sanzione amministrativa che può variare da 500 a 3.000 euro. Finalmente abbiamo licenziato la legge che prevede da parte dei possessori di caminetti che sono sotto i 10 kilowatt di denunciare il fatto di averlo. Questo perché? Perché la regione toscana ha in ottemperanza anche delle norme nazionali deciso di mettere in atto un censimento, cioè noi vogliamo essere molto chiari con i cittadini, il fatto di autodenunciare il possesso di un caminetto non significa pagare qualcosa perché la procedura è completamente gratuita, non ci sono tasse, non sono previste nessun tipo di tassazione, serve solo per capire come una fonte che in alcuni territori della Toscana è particolarmente usata anche per riscaldarsi, infatti ci sono moltissime abitazioni in cui il caminetto è l'unica fonte di caldo in quell'abitazione. Siccome in alcune zone, per esempio nella Lucchesia e in alcune zone del Pistoiesse, si sono verificati degli sforamenti di PM10 che ci hanno visto fare un'infrazione da parte dell'Europa per questo inquinamento, però la regione non ha da nessuna parte un censimento di chi ha il caminetto e dove sono questi caminetti. Questo serve perché vogliamo ancora di più migliorare le politiche per l'area pulita e quindi l'idea che abbiamo letto anche nei nostri territori, la preoccupazione di alcuni amministratori all'inizio, un annetto fa quando abbiamo iniziato a esaminare il provvedimento, era una preoccupazione forse legittima perché era un po' confuso il motivo per il quale questo veniva fatto. Invece noi oggi abbiamo licenziato una legge dove è ben chiaro che non c'è nessun costo a carico del cittadino, che c'è l'obbligo di denunciare solo se si vuole aderire ai molti bandi che sono stati fatti per sostituire questi caminetti che sono veramente inquinanti, ma non solo per l'area, anche per chi sta davanti al caminetto a vedere la televisione o a parlare con le persone, insomma questo vogliamo far passare. Conosciamo nella nostra regione, perché c'è un obbligo di legge nazionale, tutte le fonti di calorifiche sopra i 10 kilowatt, le caldaie, termosifoni, tutto quello che gira intorno ai riscaldamenti delle nostre abitazioni, ma nessuno conosceva quanti e dove sono i caminetti. Su questa norma è stato straordinario il lavoro del sottoscritto, del partito Italia Viva, grazie a noi non ci sono più sanzioni, grazie a noi è soltanto un elemento informativo, corretto, doveroso, conoscere la presenza dei caminetti nelle abitazioni, ma non ci saranno delle sanzioni, ci sarà un'attività informativa, conoscitiva, ci sarà l'agenzia regionale che darà supporto e sostegno insieme ai comuni a tutti i cittadini, si è allentata e di molto una direttiva comunitaria che era molto stringente, l'impianto originario della legge era molto tassativo, oggi la normativa è positiva perché di fatto non ci sono tasse, non ci sono sanzioni, è un elemento di conoscenza opportuno per cercare di abbinare la presenza dei camini nelle case a quelle delle caldaie, ci sarà una possibilità di fare questa comunicazione per mail, per numero di telefono, non c'è una scadenza, quindi con calma verrà fatta e questo grazie al lavoro che ha fatto Italia Viva, il sottoscritto che vedeva nella prima fase di questa legge una legge troppo rigida, troppo tassativa e che sarebbe stata avvessatoria nei confronti dei cittadini toscani. Una battaglia vinta da parte di Fratelli d'Italia, come ricorderete lo scorso anno la Giunta presentò con due delibere un sistema diverso di regolamentazione delle emissioni sulle PM10 perché la Toscana come altre regioni è oggetto di una duplice sentenza della Corte Europea per sforamento nelle emissioni delle PM10 e nella quale si pensava a sanzioni nei confronti di tutti coloro che fossero stati possessori di impianti a biocombustibile, quindi anche i caminetti, senza alcuna distinzione, con sanzioni anche piuttosto pesanti e con controlli che venivano scaricati sui comuni. Noi ci mettiamo di traverso, non ci andava bene, in effetti anche il Partito Democratico ci ha ripensato, la Giunta ha preso tempo la scadenza per l'accatastamento e l'autocertificazione dei nuovi impianti, è ora al 31 di luglio 2024, ma nel frattempo è stato diviso le categorie. Gli impianti sopra i 10 kilowatt hanno l'obbligo di accatastamento e se non lo fanno i proprietari saranno oggetto di sanzioni dopo le verifiche fatte dall'Agenzia Recupero Risorse della Regione. Gli impianti sotto i 10 kilowatt e quindi la maggior parte dei caminetti e dei piccoli sistemi interni all'abitazione non sono più soggetti all'accatastamento, ma basterà una semplice autodichiarazione senza comunque nessun tipo di sanzione. Sulla questione relativa ai provvedimenti che sono arrivati in aula riguardo alla nostra vicenda dei caminetti, la Lega ha posto un problema di fondo, anche di ordine politico. Noi l'avevamo già detto a suo tempo, mettendo in evidenza che non era possibile discutere una legge di questo tipo, fino a quando non avremmo avuto un piano dell'aria aggiornato. Piano dell'aria che in realtà ancora non ha visto la luce, che ha visto un'informativa, ma si teme che sarà affrontato di qui a molti mesi. E allora sotto questo aspetto noi riteniamo, e l'abbiamo detto a più riprese anche oggi, che i dati portati avanti da Patos su quello che è l'inquinamento, per esempio nella Piana Lucchese, non siano in realtà aggiornati a quello che è il quadro odierno. Il Consiglio regionale è in pausa estiva e riprenderà con le due sedute del 10 e 11 settembre. I vari schieramenti politici delineano i temi su cui concentrare l'attività alla ripresa dei lavori del Consiglio regionale. Ci stiamo avviando alla fine della legislatura, il programma di mandato del Presidente Gianni in larga parte lo abbiamo portato a compimento. Di fronte a noi abbiamo sicuramente due questioni molto importanti del programma di mandato da concludere. Una è il piano dell'economia circolare e il tempo dell'approvazione, ci sarà l'ultimo confronto in commissione e poi prima della fine dell'anno verrà approvato. E poi la questione relativa a Toscana Strade. Noi abbiamo di fronte a noi la necessità di chiudere il cerchio politico su questo. Dico che bisogna farlo con serietà, ascoltando tutti, ma è anche arrivato il tempo di decidere perché io che sono un pendolare di quella strada so la fatica che si fa. Certo, ragioniamo di tutto. Ragioniamo su come tenere in piedi questa società, ragioniamo sul pedaggio. Quello che ho detto al Presidente Gianni, lo ridico qui, se il pedaggio selettivo deve essere per i camion, per chi lo usa come transito, quelle risorse devono servire in maniera chiara per realizzare la terza corsia o realizzare la corsia d'emergenta. Non basta solo la manutenzione per quel tipo di arteria. Abbiamo dei problemi e dei temi da affrontare che in realtà abbiamo già iniziato a trattare. Sto pensando per esempio al piano dei rifiuti che è stato adottato, che ha visto la presentazione di tutte le osservazioni che sono in fase di valutazione da parte dell'assessorato, ma che alla ripresa dovranno approdare in aula perché il piano dei rifiuti deve essere approvato dando quindi uno strumento importante che serve ai cittadini e alle imprese. Abbiamo poi il piano sanitario e sociale. È stata fatta la comunicazione da parte dell'assessore Bezzini, ma credo che anche da questo punto di vista l'attuazione della sanità territoriale, cioè la programmazione per quanto riguarda gli interventi che saranno da fare, sia quelli dal punto di vista strutturale, da quelli riguardanti la tecnologia, soprattutto l'organizzazione, meritano la massima attenzione perché stiamo parlando di uno dei temi più cari ai cittadini, vale a dire la loro salute. Avremo anche la legge sul testo unico sul turismo, anch'essa una profonda revisione della legge che già abbiamo, che darà una mano alle amministrazioni comunali per quanto riguarda la gestione di un'attività importante come quella del turismo legata anche alla vivibilità dei centri storici e alla mancata perdita di quelle che sono le funzioni tradizionali che comunque soprattutto nelle nostre città d'arte noi vorremmo che possano rimanere. I pilastri su cui organizzare questo scorcio di legislatura rimangono quelli con cui l'abbiamo iniziata perché continuano a essere imperativi nella nostra agenda. Il lavoro, la tutela soprattutto del lavoro e della dignità del lavoro, la sanità che è sempre più un problema soprattutto dal punto di vista economico piuttosto che un diritto e l'ambiente che è fortemente collegato alla qualità della nostra vita. A questo si allaccia poi il problema della multi utility di cui non vogliamo la quotazione in borsa, di una sanità territoriale che va recuperata e ripresa e il problema di tutti quei servizi che devono essere resi alle persone a partire dalle infrastrutture e tutto ciò che riguarda appunto la qualità della vita. Credo che siamo arrivati a un momento di svolta per quanto riguarda anche il programma, la programmazione strutturale europea e dobbiamo cercare di guardare appunto all'Unione Europea come un'opportunità di sviluppo di nuove strategie dal punto di vista della sanità, del lavoro e del recupero dell'ambiente. A settembre ripartiremo con un nuovo vigore, quello chiaramente che ci accompagna nell'ultimo anno di mandato. È chiaro che tutte le posizioni che assumeremo come fratelli d'Italia, ma le assumeremo sicuramente, chiaramente anche come centrodestra e oltre al centrodestra anche come tutto quel contenitore che si fa alternativo al governo del Partito Democratico, per tutte quelle che sono le prime partite subito a rientro dalla pausa di agosto, quindi penso al piano dei rifiuti, penso a Toscana Strade, penso al piano sanitario, penso alla legge sul turismo, faremo in modo che non soltanto ci sia la possibilità di poter precisare quello che è il nostro punto di vista, ma trasformare poi questo punto di vista in quella che sarà l'alternativa progettuale di governo per la Regione Toscana alla prossima scadenza elettorale. Continueremo a lavorare ancora sui temi che riguardano la Regione Toscana, penso ai siti produttivi, penso ai distretti industriali, penso al tema della grande crisi che vive la provincia di Firenze e con le industrie della moda e della pelle del cazzaturiero, penso al tema delle infrastrutture, faremo nel periodo estivo una raccolta firme contro la FIPILI a pagamento, ecco riprenderemo dopo la pausa estiva del Consiglio regionale partendo dalle questioni fondamentali, prima fra tutte la sanità, siamo convinti che occorre fare un'accelerazione, dobbiamo snellire le liste d'attesa, i dati dimostrano che la Toscana è maglia nera per quanto riguarda le liste d'attesa, è maglia nera per quanto riguarda la diagnostica, ecco tutta una serie di iniziative come Forza Italia metteremo in campo alla ripresa di settembre e naturalmente che ci porteranno alle elezioni regionali del 2025, pronti come centrodestra a vincere questa Regione mettendo in campo il candidato migliore. Sicuramente il tema della sanità informativa che è arrivata la scorsa settimana e quindi il piano socio-sanitario sarà un tema centrale anche nel prossimo anno, però pensiamo anche alle infrastrutture, a quella proposta accelerata dal parte del Presidente Gianni che si chiama Toscana Strade su cui saremo pronti a confrontarci, a dibattere ed esprimere le nostre posizioni. Penso al piano dei rifiuti, quindi a tutto il tema ambientale che abbiamo avvertito partendo anche dall'inchiesta Cheo e quindi da tutto quello che è il rifiuto speciale ma anche a tutto quello che è il rifiuto solido urbano e imprenditoriale della Toscana, quindi un piano dei rifiuti che ci vedrà a settembre pronti a dibattere sull'aula di Consiglio regionale ed esprimere le nostre posizioni in contrapposizione anche con il Partito Democratico sul tema dei rifiuti e poi l'ultimo tema che a noi sta particolarmente a cuore è sicuramente quello dell'acqua, quindi quanto noi riteniamo importante il tema dell'acqua che debba stare fuori da quel processo iniziato dal PD sul tema della multiutility e quindi quanto noi ci batteremo affinché l'acqua non faccia parte di quel processo di unione sul tema rifiuti e sul tema energia. È tutto da cronache e commenti, ci rivedremo a settembre alla ripresa dei lavori del Consiglio regionale. Arrivederci. Grazie a tutti.